Giornata di sciopero dei docenti del personale alta, educativo e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado. Ce ne parla nel servizio Antonello Lai. Una manifestazione che lascia intendere diversi problemi nel mondo della scuola. Il 9, tutto il mondo degli studenti entra in agitazione. Perché tutto questo? Allora, lo sciopero di oggi è in coincidenza con una prova invalsi nella scuola primaria. E noi siamo stati da sempre contrari all'istituzione degli invalsi che si è rivelato un blef. Partito come sistema di rilevazione nazionale per migliorare la scuola pubblica. In realtà ha semplicemente fotografato le differenze che ci sono tra le diverse scuole e le diverse aree del Paese. Lasciando la situazione intatta. In effetti in questi vent'anni di invalsi la scuola pubblica è solo peggiorata. Ed è peggiorata per volontà continua, continuativa, direi da un governo all'altro, della classe dirigente italiana di smantellarla. Perché se è vero che il centro-destra l'ha smantellata tagliando con gli organici e il tempo scuola, il centro-sinistra l'ha tagliata vessando il personale docente alta. Filo comune a tutti i governi è il sistema del precariato stabile. Noi diciamo basta al precariato a vita, ci vogliono delle norme che esistono già nella scuola italiana per stabilizzare il personale precario. La militarizzazione della scuola segue alla nuova politica bellicistica degli Stati europei, che è una follia.